La regione Abruzzo in gol per il lavoro, ma qui il calcio non c'entra, ma gol sta per garanzia di occupabilità dei lavoratori. Il progetto del governo è stato introdotto per cercare di rilanciare il lavoro dopo la crisi dovuta alla pandemia. In Abruzzo coinvolgerà 14.000 persone con un occhio particolare per i giovani, per gli over 50 e per le donne. Ne hanno parlato la dirigente del servizio occupabilità Renata Durante e l'assessore al lavoro e alla formazione Pietro Quaresimale. È un'iniziativa molto importante che abbiamo elaborato in giunta attuando il piano per il lavoro, che è veramente rivoluzionario, che si chiama gol, garanzia, occupabilità, lavoro, con una dota finanziaria di quasi 40 milioni, perché abbiamo 21 per gol, ma poi abbiamo anche 15 che ha un pallecitorizzato che riguardano la residualità della cassa in deroga e più circa un milione e mezzo per il fondo competenza. Con queste somme cercheremo di andare incontro agli effetti negativi della pandemia che sono avuti a causa di questa emergenza sanitaria che ha appunto creato problemi a tante aziende, sappiamo benissimo le crisi che ci sono. Quindi sono diverse misure che attueremo, precisamente 5, soddisferà circa 14.000 abruzzese e saranno una serie di misure che riguarderanno sia incentivi e nuove assunzioni, ma soprattutto cercheremo di mantenere il livello occupazionale di quelle aziende che sono in crisi. Quindi sicuramente è una politica del lavoro importante che metteremo in campo, faremo degli avvisi, cercheremo di accelerare le procedure che spesso saranno dentro del tutto, ma sono contento del piano che è stato attuato, abbiamo fatto una concertazione con le parti sociali e quindi sicuramente fronteggeremo questa emergenza a livello lavorativo.